allora ragazzi bentornati al capitolo già con capitolo studio e approfondimento del modem electric bass questa dovrebbe essere la quarta puntata se non sbaglio la terza la quarta e volevo vedere esercizio che già ti mostra già di genut al minuto 11 20 25 circa del video didattico dove fa questo pattern sulla scala di do maggiore in pattern di quattro note quindi partendo da sol in parte nella quinta sulla scala punto maggiore di do so fa mi re so fa mi re fa mi quattro note e intero vedrebbe così le caratteristiche di questo esercizio oltre che l'importanza per la mano destra la coordinazione mano destra e mano sinistra sono le riteggiature vero giaco mostra a gelli per la sua riteggiatura quindi le posizioni che lui preferisce in questo preciso caso utilizza questo modo di suonare la la scala della scala la chiamo posizione del viso indice che parte con primo dito altrimenti la scala come sapete si può fare partendo dal minimo partendo dal medio poi utilizza questa quindi anche per il pattern per l'esercizio lo fa in questa posizione altra caratteristica classico di giaco chiude l'esercizio con qualcosa di musicale quindi prima farò vedere poi salgo se non sbaglio a terzine di ottavi tanto quindi do mi so do mi so e poi fa questi bicordi quindi do maggiore diciamo basso mi quattordicesimo tasto quindi sono il mi sul re e diciassettesimo col mino il do quindi do maggiore fa 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 mi minore re minore do appoggiatore slide glissato do maggiore maggiore questo ci può dare tantissimi spunti almeno a me mi fa venire voglia di fare esercizi di infilarci qualcosa di musicale ad esempio appunto questi bicordi ci possono dare spunti per creare qualche linea di basso inserire in qualche blu quindi semplici ricordi altra cosa fondamentale è quella che noi possiamo non limitarci innanzitutto alla scala di do maggiore quindi possiamo ad esempio partire da qui una volta arrivato a do scendo di semitono faccio la scala ad esempio di si si bemol eccetera eccetera quindi poi le posso fare a scendere fare le stesse cose in altri tonalità qui state però attenti a quando aumentate di velocità tutte le note siano suonate perfettamente quindi senza tralasciarmi a qualcuna per strada o senza andare fuori tempo devono essere chiare quindi partite lentamente questa viteggiatura che usa lui che personalmente lo uso anch'io però non la pieta di oppure anche allungare esercizio per esempio fino alla quinta bassa e ripartire magari da qui sono tutte idee che mi vengono sul momento quindi che voi potete inventare e quindi sviluppare ulteriormente questi tipi di esercizi sempre su questo su questo tipo di parte un po più avanti nella nella video intervista gioco mostra anche le possibili variazioni in termini ritmici ovvero riesci a fare quattro note diciamo i gruppi di quattro note sol fa vedere anche lo stesso esercizio gruppi di cinque ovvero quindi sol fa mi re do fa re fa mi re do si quindi ragazzi prendete spunti da questi favolosi esercizi che ci ha lasciato in eredità il nostro minuto gioco per prendere appunto per creare poi creare dei vostri e quindi inventare cose nuove appunto se vi fa l'effetto che fa a me mi fa venire voi quando ascolto anche solo fare gli esercizi viene voglia di mettermi a studiare e inserire appunto qualche elemento melodico anche in esercizi puramente tecnici allora per oggi è tutto quindi ci vediamo alla prossima puntata di questo argomento e se vi piace mettete un pollice in su grazie e ringrazio e a sederci al prossimo video las inter8